Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su un altro canale Porca miseria, voglio vedere quanta gente è viva su sto canale Prima di ricomunicarlo appunto su quello principale Questo è il primo canale che ho aperto, io si chiama Free Gaming, secondo canale Inizio di caso si chiamava Free Gaming, con proprio Free Gaming Adesso vi faccio un piccolo tour, lo andiamo a vedere Il canale della prima stagione, metà seconda stagione di Minecraft E È stato il canale della Ruins of the Mankrackers, è stato il canale degli inizi Quello con cui sono partito, con cui abbiamo fatto tanta roba Cosa dovrà fare questo canale, oggi vi racconterò perché siamo qua e vi racconterò insomma alcune cose Allora, 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 voglio fare un lavoro molto interessante su questo canale Per esempio, tutti i video che non possono andare sul canale principale Perché magari non ho spazio, perché magari ho registrato un video e non so quando metterlo Perché magari ho registrato una clip di Fortnite che è carina, ma non è bellissima da mettere sul primo canale La metto sul secondo canale Ok, per fare così gameplay, ma molto alla buone Viene un video, boom, preso, caricato Così, se non è figo, sti cazzi, qualche backstage potrei caricare Cioè, tutto quello che magari non è editato Ha una cosa un po' più grezza Ma funzionale, secondo me Potrebbe essere carino per chi vuole approfondire un determinato contenuto Per chi vuole seguirmi anche su questo canale, può tranquillamente farlo Ma era venuta a Stidia, me l'aveva consigliato alcune persone Ma perché non riprendi il vecchio canale? Perché non riprendiamo il vecchio canale? Si può fare, si può fare Davvero, tutte le cose, non farò live sicuramente Sovrappone che se devo fare delle live le facciamo su questo Però comunque, è su quest'altro canale potremmo mettere Ve l'ho detto da roba grezza Adesso vi parlo anche di un altro aspetto molto interessante Come ben sapete ragazzuoli, io sono legato a una compagnia statunitense Purtroppo con questa compagnia abitando in Italia Non riesco bene a ottenere pass per le fiere Per il backstage delle fiere Quindi riesco a creare contenuti quando vado in fiera Di relativo spessore Cioè sarebbe figo andare là dietro Magari fare un selfie con qualcuno Che ne so Ma fa così per dire Cioè nel senso magari vedere qualcuno Scambiare due chiacchiere Ovviamente io quando vado alle fiere A parte che vado con degli amici Perché da solo è lungo da qui andare alle fiere Magari quando devi andare a Romics Tira via Roma Ok si può fare Anche se comunque lì ci devo fare un'ora e mezza di strada Ma andare per esempio già a Milano A Lucca Oddio è tanta strada Quindi partiamo in gruppo preferisco Cioè dato che ci vanno anche loro Ho detto vabbè partiamo tutti insieme Giustamente E quindi magari riuscire ad ottenere dei pass Con delle compagnie community italiane Potrebbe essere un'idea per esempio No beh partner non community Io non sono tipo da community Ho sempre detto a me non piace Odio le comuni se non sono ferme Ma perché lavoro da solo Perché ho sempre lavorato da solo E non posso Non riesco a lavorare in gruppo con altre persone Per quanto riguarda magari i progetti Iron Di Iron Man e Tutor Rostos Probabilmente sempre sul primo canale andranno Magari qualche ricerca A livello programmativo La possiamo mettere tranquillamente Sul secondo canale Ma perché no magari anche in live Potremmo fare un discorso di questo genere Beh ragazzuoli Questo è quanto Questo video dovrebbe uscire lunedì 3 settembre Alle 14 Che io spammerò tra l'altro No Non voglio spammarlo questo video Quindi questo video sarà soltanto per i pochi letti Che seguono il canale Cioè che sono ancora iscritti a quel canale Che magari Boh penso possa essere abbastanza malata come cosa Perché questo comunque è un canale inattivo da 3 anni Bof 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 Chi lo sa Vedremo un po' Sono curioso Là è una sfida Vediamo quante persone a distanza di 3 anni Rivengono qua 3 anni fa Ero moro Capelli neri Cioè ero Sì con i capelli neri Capelli lunghi e ricci Adesso sono biondo Capelli lisci E capelli corti Cazzo Potrei fare il nostalgico Raccontandovi tutto quello che è successo Da quando ho aperto quel canale E fino adesso Non lo so Cioè perché non sono una persona nostalgica Semplicemente E si guarda sempre al futuro No Ok parte cagata Raga Così era Ve l'ho detto Grezzo Molto bene Raga per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo La visione Mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi Al canale se avete fatto Di condividere il video Per farmi sciogliere persone Mi raccomando Passate in tutti I link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Facciamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi